Hanno preso in via a Ierzu i lavori per la realizzazione del nuovo distributore di carburanti. Pensiamo fosse doveroso, a seguito della chiusura dello storico distributore di Fontane Susu, avviare l'iter per l'individuazione di un'area idonea ad ospitare la nuova stazione di servizio, sottolineano gli amministratori comunali. Siamo orgogliosi dell'intuizione di averla individuata a Papapisu, in una zona strategica anche per la viabilità dei residenti e dei visitatori degli altri centri della Valle del Pardu e di aver avviato le procedure per acquisire la proprietà dell'area tramite una permuta con la provincia di Nuoro, precedente proprietaria, e di aver avviato un bando di gara per la concessione trentennale del diritto di superficie, trasparente e aperta a chiunque volesse raccogliere la sfida di costruire e gestire, impiegando solo ed esclusivamente capitali proprio, un distributore di carburanti. Secondo la tabella di marcia fissata dal Comune di Ierzu, i lavori dovrebbero concludersi entro pochi mesi con il servizio che dovrebbe partire il prossimo mese di maggio. L'unica società a presentare l'offerta è stata la Oil Service SRL, che realizzerà l'impianto a proprie spese. Ierzu dà sempre centro di servizi in generale, scolastici e sanitari in particolare, destinato a incrementare, anche grazie alla sinergia con i centri vicini, il flusso turistico, in particolare tra maggio e settembre, concludono ancora gli amministratori comunali, non poteva continuare a restare privo di quello che è oggettivamente un servizio essenziale.